È stata una festa per tutta la comunità di Fossato di Vico, l'inaugurazione lo scorso weekend dell'ampliamento della scuola materna Il Piccolo Principe. Grazie ai finanziamenti per l'edilizia scolastica messi in campo dalla Regione Umbria tramite i Mutui Bay, nel piccolo comune appenninico sono arrivati 500.000 euro serviti per costruire una struttura in muratura dove prima c'era un container per ampliare la scuola materna e consolidare un muro esterno che ha messo in sicurezza tutto il piazzale della scuola. Il tutto nel contesto di una qualificazione di questa zona di Fossato di Vico che va da Osteria del Gatto alla stazione. Questo è uno dei tanti interventi che sono stati fatti in quest'area. Il primo degli altri interventi riguarda la viabilità. Noi stiamo realizzando in questo momento i marciapiedi che collegano due frazioni che sono fondamentali per il nostro territorio, quella di Osteria del Gatto con quella della stazione. Questo collegamento permette di accedere a quest'area che oltre a ospitare la scuola materna vede anche la presenza del palazzetto, del circolo tennis, del campo sportivo, di un campo da calcetto e di un'area in cui si può svolgere un'attività fisica in libertà. Permette di raggiungerla in sicurezza sia da parte dei ragazzi che da parte dei genitori. Per cui questo si può dire che è un tassello di un progetto molto più ampio di riqualificazione di questa area. Presenti al taglio del nastro il consigliere regionale del PD Andrea Smacchi che ha ricordato come la regione Umbria abbia investito nell'edilizia scolastica circa 130 milioni di euro di cui ben 13 milioni da spendere per l'efficientamento sismico ed il miglioramento delle strutture di questo territorio. La dirigente scolastica Francesca Pinna ha applaudito alla vitalità della realtà fossatana che nel generale calo delle iscrizioni scolastiche fa registrare dati in controtendenza. È una bellissima giornata quella di oggi perché in un contesto in cui in generale in Italia, in maggior ragione nelle nostre zone, di fronte a un calo delle nascite abbastanza significativo, le scuole iniziano a soffrire per il numero di alunni che le frequentano. In realtà qui abbiamo visto che non solo la popolazione risponde con molta sollecitudine a tutte le varie proposte educative e didattiche, ma poi c'è una comunità ricca e vitale. Certo, quello che ci aspetta negli anni a venire come numeri delle nascite non è che ci fa stare molto sereni rispetto alla tenuta generale degli ordinamenti scolastici, però resto convinta di una cosa che fino all'ultimo giorno in cui una scuola c'è deve essere sempre un'eccellenza.